Benvenuta e benvenuto nella serie di video più discontinua di tutta YouTube Italia. Qua al microfono c'è sempre il tuo, il vostro, il nostro Renzo Ferrari, che come sempre sono io. In questo video voglio parlarvi di un tema molto 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 importante che riguarda la fidelizzazione dei clienti in ristorazione. Infatti parliamo di quella che ho denominato la strategia magica per fidelizzare i clienti al tuo locale, sia esso un ristorante, un bar, una pizzeria, non è importante. Se lavori nel campo della ristorazione, questo video ti sarà utile per capire come trattenere a te più spesso e meglio i clienti che frequentano le sale della tua attività. Devi sapere, ma lo sai sicuramente se lavori in ristorazione da più di un quarto d'ora, che la ristorazione è un business che si basa sulle transazioni multiple. Una frase molto complicata per dire che se non fidelizzi la clientela che poi acquisisci, chiudi, sei destinato veramente al fallimento. E questa, diciamo, è la base di qualsiasi ristorante di successo. Infatti, senza clienti fidelizzati non c'è ristorante che tenga, non c'è bar che tenga, non c'è pizzeria che tenga. La domanda che quindi tantissimi ristoratori si fanno è ma com'è che si fidelizzano questi clienti? Basta veramente offrire un buon servizio, una giusta qualità, un prezzo congruo? Secondo me no, non basta più, perché oggi nel 2023, nel momento in cui stiamo registrando questo video, sono usciti tra l'altro da pochissimo i nuovi dati dell'osservatorio di ristorazione che ti condivideremo presto, ci sono una quantità spropositata di ristoranti in Italia e questa quantità di ristoranti in tutta Italia offrono qualità, servizio, al giusto prezzo. Di conseguenza non basta più fare queste cose che sono la base di partenza per lavorare in ristorazione per fidelizzare i clienti. Serve fare un passettino in più. E a questo problema, quindi alla fidelizzazione dei clienti, risponde tantissime soluzioni che anche in casa del ristoratore topera avrai sicuramente visto più volte. Infatti ci sono decine e decine di tecniche di fidelizzazione della clientela, ma questa che sto per mostrarti tra pochissimo è in assoluto, secondo me almeno, la più potente, quasi magica. Infatti sono già spaventato dalla copertina che questo video avrà su YouTube. Però chi mema è vivo. In ogni caso questa tecnica che ti sto per mostrare è davvero molto potente, quasi magica. Per applicarla però ti serve uno strumento del quale ti parlerò tra poco. Niente di trascendentale, niente di troppo complicato nel 2023, però ti serve uno strumento tecnologico per utilizzare questa strategia. Però prima di mostrarti qual è questa tecnica voglio farti un esempio per farti capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando. Qualche tempo fa mi sono concesso tre giorni di ferie insieme alla mia compagna e a mio figlio e siamo andati in questa bellissima struttura sui colli bolognesi che se non conosci ti consiglio che si chiama Palazzo di Varignana. È una struttura in cui vado spesso, un paio di volte l'anno diciamo che ci passo le mie giornate, abbiamo organizzato anche le diverse scene aziendali di ristoratore top e platform in questa struttura. Anzi, più di uno dei locali della struttura utilizza anche i nostri strumenti tecnologici. È un bel posto, mi trovo bene vicino a casa, quando voglio distaccare un po' vado qua. Al mio arrivo però questa volta succede qualcosa di particolare, perché succede questo. Il responsabile del bar, per andare alle camere occorre passare davanti al bar, modello autogrill, ti fanno vedere prima i cioccolatini e gli alcolici e poi puoi andare verso l'uscita, in questo caso verso le camere, e il responsabile del bar mi saluta per nome. A te che pensavo che non si rivolgesse a me, perché buongiorno signor Lorenzo. In che senso? E mi giro, lo saluto, alla fine mi conosceva, mi ero dimenticato di lui, ma riprendiamo i rapporti immediatamente dopo. Fatto sta che la prima cosa, dopo aver fatto il check-in in reception, è stato il saluto con il mio nome da parte appunto del responsabile del bar. Non è finita qua, perché ovviamente nel pomeriggio vado a fare l'aperitivo al bar, vado a prendere l'aperitivo al bar, e all'aperitivo sempre questo responsabile non solo mi risaluta per nome, ma anche io avevo imparato il suo, ma si ricorda addirittura il mio cocktail preferito alle volte precedenti. E addirittura mi consiglia la tipologia di gin che mi piace di più, al che indago un po' e effettivamente si ricordava anche la tipologia di gin che preferivo all'interno del Martini. E già qui, come dire, l'effetto wow era già pronto che è servito, ma non è finita perché, vedendomi girare ovviamente per le sale dell'hotel con mio figlio, chiede il nome di mio figlio, glielo dico molto volentieri, e per tutta la durata del soggiorno si è sempre ricordato, è di mio figlio, e l'ha sempre salutato per nome. Queste piccolezze, queste attenzioni, questi dettagli, sono in realtà parte integrante dell'esperienza di qualsiasi attività di ristorazione e di ospitalità, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. In questo caso sono state tutte tecniche e strategie pensate perfettamente, non solo per valorizzare la mia esperienza e quindi per guadagnare di più, ovviamente, ma anche per farti sentire speciale, per farti sentire importante. Infatti queste piccole e semplici efficaci strategie mi hanno sì fatto sentire importante e fatto sentire speciale, mi hanno dimostrato che il personale di quell'attività ha una professionalità e anche una malizia, se vuoi, davvero uniche, davvero speciali, e doti queste che io ho apprezzato da cliente parecchio e come me tantissimi altri clienti apprezzano. Infine, ma non per ultimo, anzi forse la cosa più importante, queste piccole strategie hanno sicuramente aumentato il mio valore per l'azienda, infatti ho speso l'inverosimile, già l'aperitivo ero parecchio ubriaco e questa cosa, per quanto non sia una novità, ha sicuramente aiutato, queste tecniche, queste piccole attenzioni hanno sicuramente aiutato a valorizzare anche il mio valore per l'azienda, in questo caso Palazzo di Varignana. Quindi complimenti. Ecco perché la strategia magica per fidelizzare i clienti si chiama conoscerli. conoscere i tuoi clienti, conoscere meglio, approfondire la relazione che si ha con loro per valorizzarla, certo, per migliorarla, per farla rendere ancora più memorabile e più importante. Vorrei però scendere un po' nello specifico, perché non basta, diciamo, conoscere la propria clientela, serve fare qualcosina in più. E quindi ti domando, quante cose sai effettivamente dei tuoi clienti? sai per esempio quanti sono? Quanti coperti servi ogni anno? Quante persone varcano la soglia del tuo locale, del tuo bar, del tuo ristorante, della tua pizzeria ogni anno? Quante pronotazioni ci sono associate a questi coperti? Ma sai soprattutto chi sono i tuoi clienti? E non quella decina o quella ventina che ti ricordi di più perché magari ti sono rimasti in mente o perché ti frequentano quotidianamente o settimanalmente, ma anche tutti gli altri, sai chi sono? Quella coppia che è entrata venerdì sera o al più passato San Valentino sai chi è? Sai quante volte ti ha già frequentato? Sai lui quante volte è venuto con i suoi amici? E sai lei quante volte è venuta con le sue amiche? Sai se hanno degli amanti perché può succedere? Insomma, sai chi sono i tuoi clienti? Quante informazioni hai su di loro? Sai quali sono i loro piatti preferiti? Quante volte ti frequentano? Chi prenota e chi poi non si presenta? Insomma, quanto li conosci davvero i tuoi clienti? Per farlo, per conoscere i tuoi clienti e per farli in modo organizzato perché queste sono informazioni che non puoi pensare assolutamente di ricordarti tu, devi avere un CRM. Questo è lo strumento che ti serve per conoscere meglio i tuoi clienti, per organizzare i dati relativamente ai tuoi clienti e di conseguenza utilizzare poi queste informazioni e questi dati a tuo vantaggio. Ecco, non puoi assolutamente pensare di ricordartene tutte te, queste informazioni non è impossibile per questo ti serve la tecnologia, in questo caso il CRM. Il CRM è un acronimo, quindi è un nome le cui lettere formano un altro nome che in questo caso è Customer Relationship Management, ossia uno strumento che ti serve per raccogliere e organizzare informazioni e dati sui tuoi clienti. Lo scopo è semplicissimo, la palissiano, queste informazioni non ti servono per rimanere lì nel CRM ma ti servono per conoscere i clienti e quindi soddisfarli al meglio. Ma da sé, una volta che l'hai conosciuti e soddisfatti, poi loro ti ricambieranno con tanti soldini in più, come ti ho mostrato nell'esempio nell'esempio di prima. Ecco perché la strategia che ti sto per mostrare, quella magica che ho chiamato così per fidelizzare la clientela, si basa su un principio semplicissimo e fondamentale che è quello di conoscere i tuoi clienti. Ora, potrai pensare che il CRM è uno strumento avanguardistico, ultra tecnologico, ultra innovativo nel campo della ristorazione. Non è affatto così. Il CRM oggi è la normalità nel campo della ristorazione. Infatti, anche all'interno di Platform abbiamo un CRM che ti mostrerò tra poco in tutti gli screenshot che ti farò vedere. Anche sicuramente il Palazzo di Varignana hanno un CRM perché si sono ricordati di me, di mio figlio e dei miei gusti, delle mie preferenze e di conseguenza è davvero uno strumento abbastanza diffuso in Italia. Non ti voglio dire che la totalità dei ristoranti italiani ha un CRM, anzi, la maggior parte dei ristoranti in Italia non sa assolutamente cosa sia un CRM e si sente e si vede, aggiungo, però oggi diciamo che è una tecnologia abbastanza sdoganata. Se qualche anno fa avessi detto a un ristoratore CRM mi avrebbe risposto che cosa hai detto mia madre, oggi invece quando parlo di CRM mi confronto con delle persone che sanno che cos'è e apprezzano appunto i risultati che possono ottenere grazie a questa tecnologia. Allora, ti mostro quella che è una schermata del CRM all'interno di Platform e questo entrando alla voce clienti dentro Platform trovi per ogni cliente questa schermata dove sostanzialmente ci sono raccolte le informazioni di contatto dei clienti di Platform. Ovviamente i numeri che vedi sono inventati per la maggior parte la data di nascita è giusta però tutti gli altri diciamo li ho messi completamente a caso. Ora, in questo caso è la mia scheda all'interno di un CRM. Questi qui sono tutti i dati diciamo che puoi vedere all'interno del CRM di Platform. Quindi Lorenzo Ferrari un indirizzo mail fittizio un numero di cellulare sbagliato il sesso che in questo caso auspico sia maschio anche se non c'è scritto il giorno di nascita il mese di nascita il fatto se posso essere o meno un VIP se ho flaggato la privacy e se ho consentito ad accettare informazioni relative al marketing dei tag che tra poco ti farò vedere che cosa sono e delle note eventualmente che il gestore può mettere all'interno di questa CRM. Questi dati se rimangono così in maniera molto asettica non servono sostanzialmente a niente ma se li sfrutti nel modo corretto possono essere molto molto importanti. Qui in immagine ti faccio vedere che cosa si può sfruttare e che opportunità si cela dietro al fatto di avere il nome della persona in questo caso io. Beh in questo caso l'opportunità potrebbe essere quella di sfruttare il mio nome per l'onomastico. Io l'onomastico non è una festività che festeggio faccio fatica a festeggiare il compleanno però in certi in certi paesi soprattutto al sud so che la ricorrenza dell'onomastico è quasi più importante di quella del compleanno. in questo caso puoi inviare una mail una comunicazione un sms un whatsapp a tutti i lorenzi del tuo crm dicendogli guarda che se vuoi festeggiare l'onomastico da me visto che il 10 agosto si avvicina non si avvicina molto perché siamo a febbraio ma ci siamo capiti visto che il 10 agosto si avvicina puoi festeggiarlo da me. E cosa ci puoi fare invece con il tema del sesso beh ovviamente anche qua puoi sfruttare sempre per l'onomastico di qui sopra oppure puoi mandare per esempio delle email per San Valentino magari per ricordare a tutti i maschietti a tutti gli uomini della tua lista clienti che forse forse è il caso di invitare a cena la propria lei o il proprio compagno appunto per ricordarsi di festeggiare San Valentino nella tua attività. Il giorno di nascita ovviamente legato al mese si rifà al compleanno puoi creare degli automatismi con un CRM e puoi sfruttare questi dati per invitare i tuoi clienti all'interno delle tue sale per festeggiare il compleanno magari mandargli una mail due settimane prima del compleanno dicendogli tra poco il tuo compleanno siamo lieti di offrirti una bottiglia di vino siamo lieti di crearti un pacchettino un presente personalizzato un piccolo sconticino e così via se festeggi il compleanno all'interno delle sale della nostra attività. Poi c'è il tema del flag VIP in questo caso dentro Platform è un'accortezza che abbiamo fatto perché noi ci teniamo parecchio ci sono alcuni clienti che sono più importanti di altri perché magari frequentano le sale della tua attività più spesso perché magari hanno speso di più perché magari ti sanno banalmente più simpatici di tanti altri in questo caso puoi elevarli al grado di VIP all'interno del CRM e condividere queste informazioni con chiunque guardi all'interno del CRM e di conseguenza se organizzi un evento privato o vuoi dare una priority list alle prenotazioni o vuoi semplicemente fare sentire speciali i clienti VIP della tua attività puoi sfruttare questa informazione grazie al CRM per inviare loro delle comunicazioni e invitarli all'interno della tua attività. Il tag che non significa nient'altro che etichetta ti dà la possibilità di appunto etichettare i tuoi clienti a seconda delle loro abitudini e a seconda dei loro comportamenti di acquisto. Ad esempio in questo caso io sono taggato come branch all'interno di questa attività significa che magari ho frequentato quel ristorante la domenica pranzo per fare appunto un branch. C'è il tag altospendente non è assolutamente vero ma evidentemente mi dipingono così per cui se io so che questo Lorenzo Ferrari ha un tag altospendente è probabile che questo Lorenzo Ferrari sia più incline a ordinare magari una bottiglia un po' più costosa o in generale a non avere problemi nello spendere qualcosina in più. Il cameriere quando va al tavolo vede questo tag perché l'ha visto in cassa all'interno del sistema di prenotazioni e quindi sa che quel cliente al tavolo 3 probabilmente è inclina a spendere qualcosina di più. Infine l'ultimo ovviamente queste informazioni che cosa ti servono? Ti servono per fare upsell ti servono per segmentare la lista e ovviamente per fidelizzare perché di questo che stiamo parlando. Infine c'è un tag in questo Lorenzo Ferrari che dice che non sono arrivato quindi sono finito nella cosiddetta blacklist di questo ristorante vuol dire che una volta ho prenotato e non mi sono presentato ovviamente tutto finto non è mai successo realmente anche perché sono dati che ho messo io poco fa per creare questo video però in questo caso se sai che un cliente non è arrivato nelle sale del tuo ristorante se sai che questo cliente ha fatto un no show puoi avvertire tutti i tuoi ragazzi che la prossima volta che prenoterà questo cliente e ti comparirà nell'agenda delle prenotazioni con il tag che non è arrivato in questo caso ci vuole un'acchio di riguardo perché è probabile o è possibile che questa persona poi non si ripresenterà un'altra volta. Il CRM deve riflettersi anche nell'agenda delle prenotazioni qui ti ho fatto uno screenshot questa volta reale ovviamente ho messo tutti i dati sensibili delle persone coinvolte però questi sono dati che grazie al CRM puoi vedere effettivamente quando le persone ti prenotano ti mostro queste piccole chicchette per esempio questa Sofia che ha un 9 tra parentesi a fianco del suo nome significa che ha frequentato 9 volte quell'attività e questo tag in fondo festa di laurea significa che in questo caso ha prenotato appunto per festeggiare una festa di laurea questo simbolino con il punto esclamativo a fianco del 9 significa che delle 9 volte che è stata cliente di questa attività una non si è presentata quindi ha effettuato un no show va da sé che questa persona quando ha telefonato qui vedi che il tipo di prenotazione è telefonica quando ha telefonato e ha dato i nostri nomi e ha dato il suo nome per dire che avrebbe prenotato questa prenotazione grazie al CRM inserendo i suoi dati all'interno del CRM questo ristoratore è riuscito a capire che questa persona è già venuta 9 volte quindi è probabile che sia una cliente fedele e sia una cliente che frequenta le sale per tante volte che vuole venire per una festa di laurea e che in questo caso la laurea è da 15 persone e la torta è nostra evidentemente in questo caso la torta l'avevano preparata all'interno dell'attività vediamo il cliente sotto questo Mattia che vuole fare un aperitivo alle ore 3 del pomeriggio fortunato Mattia ha già frequentato l'attività una volta e lo vedi qui e frequenta l'attività appunto per lo scopo aperitivo queste sono tutte informazioni che ti danno la possibilità di upsellare di segmentare di fidelizzare in generale di avere delle informazioni utili sui tuoi clienti condivise con tutto lo staff importantissimo che ti dà la possibilità appunto di avere delle azioni degli effetti utili sulla tua clientela una cosa che ci tengo a sottolineare è che queste informazioni è semplicemente impossibile che vengano memorizzate in una singola persona spesso e volentieri le obiezioni che si crea davanti al tema del CRM è vabbè Lorenzo queste robe io me le ricordo in testa tutto qua tutto tutto qui sì è vero in parte nel senso che le informazioni possono anche essere nella tua testa sicuramente le avrai e sicuramente avrai una memoria fotografica ma non sei un robot quindi qualche cosa te la dimentichi anche tu ma soprattutto se rimangono nella tua testa non sono condivise con tutti i tuoi ragazzi con tutto il tuo staff e quindi quella che a te sembra una banalità come di omaggiare un calice di vino al tavolo che viene una volta al giorno o proporre la bottiglia più costosa al tavolo che tutte le volte beve champagne e tu ti stupisci di come i tuoi ragazzi li abbiano proposto prosecco questa cosa succede perché le informazioni non sono condivise con tutto lo staff se quella persona che ha proposto prosecco al tavolo che di solito beve champagne avesse saputo che quel tavolo di solito beve champagne stai pur certo che gli avrebbe proposto champagne e a questo serve il crm infine c'è un campo note nel crm torniamo un attimo nella scremata di prima dove diciamo a diamo la possibilità appunto di scrivere delle note in questo caso la compagna si chiama Chiara il figlio Isacco queste sono informazioni vere che se condivise possono creare degli effetti wow esattamente come quelli che sono stati creati quando ho frequentato palazzo di Varignano e mi hanno trattato appunto come una persona e non come un cliente qualsiasi chiamandomi per nome chiamando per nome la mia compagna e il mio figlio e facendomi sentire appunto speciale e importante ecco quindi ti do una regola per terminare questo video chiedi organizza e sfrutta soprattutto i dati dei tuoi clienti perché è lì che risiedono le opportunità e la strategia magica più potente che ci sia per fidelizzare la tua clientela e anche quella più banale e quella più vecchia del mondo ma portata agli anni di oggi grazie all'ausilio della tecnologia e cioè questa tecnica si chiama conoscere i tuoi clienti noi ci vediamo alla prossima e come sempre dai cazzo